Su Joseph Mone Channel, storia con morale. Mai mentire ad una donna saggia. Rischi di perderla per sempre. Le donne sagge sono straordinarie, potenti. Sono estremamente intelligenti ed hanno una forte connessione con il proprio intuito. Dicono sempre la verità. È inutile cercare di nascondere ciò che prima o poi verrà alla luce. Di seguito vi proponiamo una storia che dimostra come non bisogna mai mentire ad una donna saggia. Moglie e marito stavano parlando al telefono. Il marito disse, tesoro, il mio capo mi ha chiesto di accompagnarlo in Cina. Andremo a pescare. È una grande opportunità e potrei ottenere una promozione. Il marito felice ed emozionato proseguì, per favore, potresti prepararmi dei vestiti da indossare durante la settimana? Inoltre, includi la mia canna da pesca e la scatola degli attrezzi. Partiamo subito dopo il lavoro, quindi tornerò a casa solo per prendere il mio bagaglio. Per favore, metti anche il mio pigiama di seta blu. La moglie trovò tutto questo molto strano e intuì che qualcosa non andava. Probabilmente il marito stava inventando una stupida scusa per trascorrere una settimana lontano da casa, le suggerì il suo intuito. Tuttavia, voleva essere una brava moglie e preparò i suoi bagagli. La settimana passò e suo marito tornò a casa. Sembrava esausto, ma disse che la pesca era stata fruttuosa. La moglie si interessò, volle sapere i dettagli di quello che era successo. Così fece molte domande. Domandò del fine settimana, del suo capo, dei suoi colleghi, dettagli della pesca eccetera. Il marito rispose, è stato tutto fantastico, moltissimi pesci, salmone, pesce spada, bluegill, comunque, non ho trovato il mio pigiama blu. Hai dimenticato di metterlo? E con grande sorpresa del marito, la donna rispose, certo che ho messo il tuo pigiama. Era dentro la scatola da pesca. Se tu fossi andato realmente a pescare, lo avresti trovato. Come dimostra la storia, tutti possiamo provare ad essere intelligenti riguardo ad altre persone, ma non si può ingannare una donna saggia. Se hai una donna saggia nella tua vita, non sottovalutarla e non sopravvalutarti. Sono persone meravigliose e devono essere trattate con il dovuto rispetto e considerazione. Il rapporto con una donna saggia potrebbe essere il migliore della tua vita, non rischiare di perderlo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie. 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 Grazie.